Buongiorno a tutti, oggi Allegrone Immobiliare vi propone un appartamento in affitto a pavia ideale per i brevi periodi, perché qua si affitta da un minimo di una settimana fino ad un massimo di tre mesi, l'immobile è nelle vicinanze della stazione, quindi è molto comodo, ok adesso diamo un'occhiata qua alla zona giorno, le piastre sono delle piastre elettriche, quelle per scaldare le pietanze, poi questo qua è il bagno, un ampio bagno con la doccia, eccola lì la doccia, ed infine andiamo a vedere le due camere, questa qua è la camera piccola, la camera singola, ok e di qua abbiamo la camera da letto matrimoniale, un'ampia camera da letto matrimoniale, lì nella parte esterna c'è il balcone, ok perfetto, adesso guardiamo il locale dove poter parcheggiare l'auto, che è un locale comune e qui il locale lavanderia dove si possono lavare e stirare i vestiti. Allegrone Immobiliare e le altre offerte su bilocalipavia.it